Il vino infatti è il nostro ambasciatore, vuole essere l'ambasciatore del nostro territorio. Il comparto è vivo, abbiamo la fortuna di avere intanto un territorio molto ricco nella provincia più vitata d'Europa e poi abbiamo una serie di produttori, giovani e entusiasti che vogliono abbracciare il progetto del rilancio della nostra DOC e del nostro vino più importante e identitario che è il Catarratto. Quindi stiamo lavorando per questo, noi d'altra parte come amministrazione vogliamo soltanto avere il ruolo di dare là, di mettere insieme questo gruppo di produttori e poi lasciarli lavorare e dargli le chiavi dell'Enoteca regionale del vino che è qui proprio il luogo che ci ospita oggi nel nostro meraviglioso castello. Su questo progetto ci stiamo spendendo, stiamo lavorando e siamo molto felici che Croneche di Gusto e Tormina Gourmet ci ha visti, ci ha scelti come partner quest'anno anche con questo evento di stamattina. Devono andare insieme vino, cibo e non solo, vino, cibo e territorio. Alcamo è la patria di cielo d'Alcamo, il padre della lingua italiana, abbiamo delle strutture culturali bellissime, quindi il nostro intento è quello di mettere insieme tutti questi ingredienti con al centro come prodotto ombrello proprio il vino e naturalmente il nostro cibo, prodotti straordinari che fanno anche qui i nostri produttori, qualcuno oggi anche presente, per cui ovviamente lavoreremo su questa scia a mettere insieme questi due fantastici ingredienti. Proprio parlando con le nostre aziende abbiamo contezza del fatto che già ognuno nella sua dimensione singola già fa questo, già fa accoglienza, offre esperienze, porta i turisti in vigna, li porta poi in giro a vedere il Serpotta, gli Stucchi, il Gaggini, il Barocco di San Paolo. Quindi non dobbiamo fare altro che mettere tutto questo insieme, utilizzare come base operativa, come cuore pulsante l'enoteca regionale del vino per la Sicilia occidentale, è bene ricordarlo, quindi è un percorso che vogliamo e dobbiamo aprire a tutto il territorio della Sicilia occidentale. Siamo pronti, bisogna adesso passare dall'idea, dalla potenzialità di cui abbiamo sempre parlato negli ultimi vent'anni all'azione. Finalmente anche con Tormina Gourmet è arrivata questa forza in più che ci dà l'entusiasmo di partire.